Ragazzi Clash of Clans ha bisogno di cambiamenti Io ragazzi vi voglio chiedere una cosa Innanzitutto quanti di voi sono d'accordo con questa mia frase Voglio davvero chiedervi quanti di voi sono d'accordo Con un pollicione all'insù così riesco a farmi un'idea generale E vi chiedo il vostro supporto Lasciate un commento qua sotto con scritto 5 cose Che secondo voi dovrebbero inserire in Clash of Clans Sia sul primo che sul secondo villaggio I commenti con più mi piace appunto con queste 5 idee Verranno nati personalmente da me a Supercell Che per chi non lo sapesse essendo un collaboratore Supercell Ho il contatto diretto con loro Di conseguenza posso far avere al 100% tutte le vostre idee E quindi vi chiedo a voi specialmente il massimo supporto Proprio perché voglio cercare di smuovere qualcosa E sarebbe bello riuscire a farlo con i vostri commenti Così che siate anche voi insomma artefici di qua Di questo cambiamento Secondo me per l'appunto ha bisogno di cambiamenti Adesso vi spiegherò meglio nel video Faremo qualche attacco e andiamo subito Partendo con il video ma prima Sigla Ragazzi Allora ha bisogno di cambiamenti Come dicevo Ma è troppo facile dire così Io so che comunque Supercell si sta muovendo molto Come vedete qui ci sono un sacco di eventi Un trio tremendo che è il fatto dell'Hungo Whip Tutto scontato Mega maratona a base del costruttore Quindi insomma il costo del timer ridotto Un sacco di eventi in arrivo Tra le guerre Tra le vince 200 gemme Però non sarà questo a far tornare I vecchi giocatori Ovvero le persone che appunto hanno lasciato Il gioco Io ragazzi vedo un gioco che sta diventando Fin troppo statico E ve lo dice Qualcuno che ahimè Questo gioco lo ha giocato Tanto Lo ha giocato tanto E io adesso ragazzi sono un po' sceso Sono settimo in Italia Ma ne ho persa uno poco fa Perché ero quinto Quindi compite bene che Essendo quinto in Italia Senza giocare Perché io sono più o meno 10 giorni Che non gioco assiduamente al gioco È un problema Perché se io non giocando 10 giorni Rimango quinto, sesto, settimo in Italia Vuol dire che Non sta giocando nessuno O nessuno mi riesce a superare Di quelli sotto Ma mi sembra impossibile Mi sembra impossibile ragazzi Cioè per me non sta più giocando nessuno E io ho dei dati dalla mia A parte i primi due Che vabbè Roe e Tony Che saluto che sono due miei amici Giocano molto Perché sono molto alti al mondo Loro sono gli unici Che stanno continuando a giocare Io ho un po' mollato la presa Lo ammetto Ma non perché non voglio più Cioè a me il gioco piace Se no non sarei maxato così Cioè è ovvio Però ha bisogno di qualcosa A me Io per fortuna Ho un contatto diretto Con Supercell E al Brixa Comics di Brescia Abbiamo avuto un briefing Con i ragazzi di Clash of Clans Italia Con il reparto Di Clash of Clans Italia Quindi abbiamo parlato Tutti insieme Abbiamo letto le nostre idee Ci siamo confrontati Hanno chiesto aiuto a noi E insomma abbiamo dato Le nostre idee Ora speriamo Che vengano raccolte Ma comunque se ce le chiedono È perché hanno bisogno Anche loro un po' Di Di qualche aiuto Perché serve Qualche aiuto da tutti Perché una testa è comoda 200.000 teste come le nostre Che siamo 200.000 sul canale Fanno sempre più comoda A prescindere da tutte Per quello vi ho chiesto Appunto un commento Qua sotto E vi invito a farlo Vi invito anche a lasciare Un mi piace in questo video Perché voglio davvero Capire quanti siamo Con l'idea del Mi ha un po' Stufato questo gioco È quello che a me Interessa capire Ma non solo a me Ma interessa capire A tutti Quelli insomma Che amano questo gioco Perché questo gioco Ha 5 anni di vita E ha comunque Dei ritmi di gioco E di login incredibili Perché la gente Ci continua a giocare Anche il primo villaggio Ha bisogno di un restyling E io Non vi posso dire Certe cose Perché ovviamente In quanto Un collaboratore Supercell Ho avuto accesso A delle info È naturale Che sia così Quindi io so Che qualcosa Smuoveranno Smuoveranno delle carte In tavola Sia sul primo Sia sul secondo Smuoveranno qualcosa Qualcosina anche Di abbastanza grosso Che forse Dico forse Potrebbe già essere La ciliegina Che faccia tornare Anche me A giocare Sul primo villaggio Non lo so Spero Spero Perché ragazzi Si sta facendo fatica A trovare dei contenuti Da portare sul canale Perché ho notato Che a nessuno Fotte un cazzo Se io sono primo al mondo Primo in Italia Terzo al mondo Non interessa niente A nessuno E la mia idea Di portare il pubblico Su un competitive mondiale Ha fallito E per me questo Mi dispiace tanto Mi dispiace tanto Perché Ahimè Sono l'unico in Italia Insieme a King Che adesso tra l'altro Anche lui non sta più giocando Infatti è sceso tantissimo Che possiamo portare Il competitive italiano Su Youtube Dico con dei numeri Un po' più grossi Ci sono Gli Oplon Su Youtube Il tronco di Capra Mi sembra che ci siano E forse anche loro Non sono sicuro Non lo so Comunque qualcuno c'è Ma io parlo di numeri Un po' più grossi Raga Tutto qua E mi spiace Che il competitivo mondiale Abbia totalmente fallito Perché I miei video Praticamente Per quanto riguarda La scalata Non interessano Quasi a nessuno Quindi Il competitivo mondiale Italiano Ha fallito Perché Di competitivi In Italia Siamo 10 I primi 10 Gli altri no Perché c'è un distacco Di coppe Da Che ne so Eh Siamo scesi tanti Raga Da Tomba Da Advance A King Eh Si risistemerà La classifica Perché c'è un sacco Di gente che io conosco Che non so Perché sia così bassa Ma perché ci stiamo Stufando Secondo me Tutto qua Ci stiamo Semplicemente Stufando Di giocare Secondo me E questa cosa È un problema Mentre parliamo Raga Mi faccio un attacco Vediamo la situazione La mia base Non so più se regge Non so più niente Non so più nulla Ve lo dico Non so più niente Di questa base Probabilmente Farà schife E mi faranno 3 stelle Perché sì Perché sarà sicuramente così Perché sono tipo 10 giorni Che non attacco In un modo serio Faccio un attacco Al giorno ogni tanto Ma Per un paio di giorni Non l'ho nemmeno aperto E questa cosa È un problema Questa cosa È un problema Perché se non apro Io il villaggio Che ho un interesse Nel fare i video Che comunque Sono sempre stato alto Tutta Tutta la stagione Sono sempre stato alto In top mondiale Anche alla top 10 Sono arrivato E in Italia Se non l'ho proprio io È un problema Raga Perché insieme a me C'è un sacco di persone Che la pensano così E non lo so RTK Non so neanche Chi sia questo Io Cioè capite bene Quanto sto fuori Dal mondo Non so nemmeno Chi sia Io questo qua Se sia forte Se sia Boh Non lo so Non lo so Provo con degli sgherri Raga Ma Così Per provare Tanto voglio dire Non ci sto neanche più Troppo presso Certo se dovesse uscire Un buon attacco Per la prossima season Io sono già pronto Ovviamente Per la prossima season Io ovviamente Sono già pronto Perché in questo momento Raga Ha bisogno di novità Intanto facciamo un attacco Con gli sgherri E vediamo come va Dobbiamo riuscire a prendere Ragazzi il canone gigante E il calorifero Tutto qua Se riusciamo a prendere Queste due difese La situazione Va in positivo Altrimenti Ci stiamo schiantati E mi sa che è quello Che sta per succedere Perché non lo so No forse va giù Forse va giù No no Qualcosina sta andando giù Comunque ho ancora Cinque sgherri Che ovviamente Li ho tenuti di proposito Infatti Sono riuscito a tenerli Quindi questa cosa è buona Se dovesse andarmi giù Anche lo spacca tutto Minrea lo spacca tutto Raga Perché ho paura Che mi faccia Brutti scherzi Facciamo così Raga Gli altri sgherri Ce li teniamo Gli altri sgherri Ce li teniamo Ok Si l'attacco Non è uscito male Cioè vi dirò Non è uscito malissimo Riusciremo a fare Un 61-2 Di pezzi 64 magari Qualcosina interessante Cioè comunque Comunque la mano Grazie a Dio Non l'ho persa Cioè per fortuna So ancora giocare Anche se non ho giocato Per questi giorni Comunque per fortuna Non è che ho dimenticato Le basi del gioco Ovvio Cioè non ho mai detto questo Ho detto che Secondo me Ha bisogno di qualcosina Eh vabbè Mi vai qua Che è la difesa Con più vita Di tutto il gioco Grazie Poteva andarmi qui No? Che arrotondavamo Un po' Sta percentuale Amico mio Vabbè Dai 66 Allontanati un attimo Niente Mi prende tutto Fino alla fine 66-2 Che vi dirò Male non è Male non è Vediamo Ora Non so La base Io non so Se la mia base Regge o meno Perché sono un sacco di giorni Che non la uso Conoccio le dita Sono abbastanza 25 coppè Anche abbondanti Vabbè 25 coppè Torno su Sesto in Italia Capite bene Che non è niente di eccezionale Non è niente di eccezionale Non lo so Continuerò a giocare Comunque Perché la season A breve ricomincia Quindi fra due giorni Io ricomincerò A giocare Ma giocerò anche Il fine stagione Farò una live Penso sul fine stagione Nel frattempo C'è Roe Secondo al mondo Grande Mattia Grande Mattia Che sta giocando Grande Mattia Porca Tra nove coppe Sono nove coppe Dal primo al mondo Vai Mattia Faccela Ti prego E ragazzi Io vi invito Comunque a lasciare Un pollicione E iscrivervi tutti quanti Al canale Con il tasto Qui sotto Mi raccomando Massimo supporto Fatemi vedere Che ancora ci siete Fatemi vedere Che Clash of Clans Non è totalmente morto Anche su YouTube Perché comunque Sto facendo un discorso Per quanto riguarda La top Italiana E YouTube Non lo so Poi il resto Del mondo Se sta giocando O meno Curo non lo so Vediamo un po' La classifica Che cazzo ci fa Questo qua Raga 9876 Ma è lui? Ma raga Ma era stato Bannato Per mod È quello che ha vinto Primo al mondo Ma che cazzo vuol dire? Ma no Ma scriverò Supercell Di sta roba Com'è possibile Raga? L'hanno bannato Per uso di mod Io ho delle certezze Perché me l'ha detto Una persona Vabbè Me l'hanno confermato Persone che lo sanno E fine Non posso andare oltre Quindi questa cosa È molto strana Che lui sia ancora vivo Non lo so ragazzi Non lo so Magari mi sono perso qualcosa Scriverò a Supercell Appena finito il video Perché ho bisogno Di conferme Io ragazzi Vi saluto e vi ringrazio Da Piazza è tutto Un saluto Ciao